Isola dei Famosi. È crisi tra Paone e Simone Antolini, trovati un altro. Prima lite di coppia all'Isola dei Famosi per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Ecco cosa è successo. Prime turbolenze di coppia per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all'Isola dei Famosi. Il reality è iniziato da meno di due settimane, ma pare che la permanenza in Honduras stia già mettendo a dura prova il rapporto tra i due fidanzati. I primi giorni sembravano più affiatati che mai, ma ad oggi gli equilibri sono cambiati. Cosa è successo? Nelle scorse ore, Simone non è stato molto bene, e ha deciso di sfogarsi con il compagno. La vita dell'Isola e la mancanza di casa cominciano a farsi sentire, e il naufrago non sarebbe riuscito a trovare in Alessandro il supporto emotivo di cui aveva bisogno. Nonostante non sia stato mostrato l'intero confronto, qualche spezzone della discussione di coppia è stato ripreso da Mediaset Extra. Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire. Ho bisogno di una persona che mi capisca, e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino, ha detto Simone a cecchi paone, mentre erano sdraiati sulla spiaggia. Tuttavia, la risposta del conduttore non ha fatto altro che alimentare le tensioni e lo sconforto del 23enne. Alessandro cecchi paone, la risposta di ghiaccio a Simone Antolini. Alessandro cecchi paone, infatti, non ha gradito affatto il rimprovero del fidanzato, e si è mostrato molto infastidito dalle sue parole. Per questo, la sua risposta è stata molto dura e decisa. E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso. Dopo aver sentito queste parole, Simone è rimasto basito, non riuscendo a credere. Per questo, la sua risposta di ghiaccio, non riuscendo a credere. La sua risposta è stata molto dispiaciuta di non essere riuscita a stringere bei rapporti con vari naufraghi. Uno tra tutti, Alessandro cecchi paone, con il quale ha avuto un forte scontro. L'ex vippona è scoppiata in lacrime, e non ha nascosto la sua delusione. Non resta che aspettare il prossimo appuntamento dell'Isola dei Famosi per scoprire il destino di Natalie.